Ed eccoci di nuovo, ben ritrovati ragazzi, ben trovati a tutti voi. Io sono Manuel, questo è Canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Ben trovati ragazzi, sempre seguendo lo stesso schema di inizio di tutti i video, vi ricordo che nel Sottopancia Scoprevole trovate tutte quelle che sono le informazioni legate al mondo Lazio, o meglio, devo correggermi, al mondo di Canale Forza Lazio, i social, i vari link che vi portano all'abbonamento e vi portano in altre situazioni. Questo è molto importante, grazie al nostro sponsor, Ristorante La Palazzina, che ci supporta sempre e fedelmente. e fatemi anche ringraziare tutti voi che piano piano state diventando sempre più follower del nostro blog, canale forzalazio.com, come dimostra il video, in sovraimpressione. Aspettate un attimo. Eccomi qua, piccolo imprevisto, mentre faccio sto video ne sto editando un altro, tanto per farvi capire il tempo che devo dedicare. Allora ragazzi, piccola attenzione a non travisare quello che sto dicendo, chiaro? Piccola accelerazione, non sto dicendo che è fatta, piccola accelerazione nella trattativa reale che esiste e c'è, e questo è certificato, per Zelischi. A dare questa accelerazione ci ha pensato in maniera importante Sarri, che avrebbe telefonato al suo pupillo, convincendolo a venire a Roma. In realtà Zelischi non ha mai detto di no, è sempre stato predisposto ad ascoltare le sirene che arrivavano da Formello, ma questa volta Sarri ha curato... Regà, è inutile che Sarri dice che non gli piace fare il manager all'inglese, che ha lasciato il Chelsea per questo motivo. A piccoli tratti lo sta facendo anche a Roma. Lo titolo ha chiamato, l'ha aggiornato di questa cosa, Sarri si è attivato, ha chiamato Zerischi, Zerischi ha dato l'ok, si è convinto, quadriennale da 4 milioni più bonus a stagione per un totale di 4,2. Stesso, identico, contratto di Ciro Immobile. C'ho sempre sto dubbio del microfono acceso. Allora, quindi questo non vuol dire che abbiamo preso Zerischi, cerchiamo subito ragazzi di essere chiari quando parliamo. Vuol dire che, primo, è certificato che ci sta una trattativa per Zerischi con il Napoli, secondo, che il calciatore a questo punto ha rifiutato ufficialmente l'offerta araba, terzo, che il calciatore gradisce la Lazio. Sappiamo che questo gradimento risale dalla bellissima, dalla epica partita che la Lazio vinse lo scorso inverno in quel di Napoli, un Napoli che era lanciatissimo verso lo scudetto, ma che dovette far registrare la sua sconfitta interna ad opera della Lazio, grazie a quel gran gol di Vesino nel secondo tempo. La Lazio vinse col Napoli, da quel momento cominciò la sua grande cavalcata verso il secondo posto. Chiusa questa breve parentesi, tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, nel ritornare in campo, Sarri avvicinò Zerischi, facendogli una battuta fino a un certo punto, dicendo lui, la prossima estate ti aspetto a Roma, alla Lazio. E Zerischi rispose al suo tecnico, ok, ne possiamo parlare mister, poi la prossima estate ci sentiamo. Questo è ciò che accadde in quella partita, e fu proprio Sarri a gettare le basi, per aprire questo canale, questo dialogo, questo percorso che potesse portare Zerischi alla Lazio. Bisogna dire la verità, abbiamo avuto qualche timore la scorsa settimana, quando ste maledette, io sì, lo dico, maledette sirene arabe, sono arrivate anche per Zerischi, hanno offerto un bel contratto da 12-13 milioni a stagione, e Zerischi ha avuto le palle di dire no, perché si sente ancora un calciatore in grado di poter esprimere le sue potenzialità, appunto, in campionati performanti, come può essere ad esempio la Serie A. Detto ciò, la Lazio, nella persona di Lodito, tra l'impegno e l'altro, tra la riunione al Senato, tra la riunione alla Lega, tra una passeggiatina in Molise, Lodito ha trovato anche il tempo di chiamare il suo amico Dela, Dela Aurentis, e ha fatto una prima offerta, forte del fatto di avere il SIA di Zerischi. Dela Aurentis si è fatto una risata, gli ha detto allo D, ma mica solo te sei in paraculo quando si fa il calciomercato, non è che tutti gli altri hanno anello al naso, io mica so scemo, è vero che c'ho Zerischi che il prossimo anno si svincola a parametro zero, sono d'accordissimo con te, ma è altrettanto vero che io so che tu hai incassato 40 picchioni, 40 fischioni dagli arabi per Milinkovic, perché me ne dai solo 20? mi dispiace, te sparo 30. Allora, sappiamo tutti che il Napoli in realtà non vuole 30, così come sappiamo tutti, perché io non voglio crederci, che la Lazio nel momento in cui ha fatto una prima offerta ufficiale al Napoli da 20 milioni di euro, non poteva pretendere di prenderlo subito con 20 milioni di euro, Zerischi. Mi sembra ovvio, mi sembra chiaro che tra i due estremi, come al solito, la verità, il punto d'incontro sta al centro. Secondo me Zerischi si può chiudere sì a 20 milioni di euro, ma con 5 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili, sapendo ad esempio che Zerischi verrà a fare il titolare fisso nella Lazio qualora la trattativa andasse in porto, qualora la trattativa andasse in porto, si potrebbe mettere un bonus del tipo alla decima partita disputata la Lazio deve pagare 2 milioni e mezzo al Napoli e alla ventesima partita disputata la Lazio deve pagare l'altro 2 milioni e mezzo al Napoli oppure c'è un'altra paraculata ecco perché si gioca tanto sui bonus sentite a Manuelino 20 milioni al Napoli magari da pagare in due tranche questi ulteriori 5 milioni di bonus tu potresti fare alla decima partita ti do 2 e mezzo come dicevo prima poi ti fai due conti dal 20 agosto in cui comincia il campionato al 3 al 4 al 5 gennaio quando riprende il campionato quante partite sono? Facciamo in modo da far cadere ve la faccio breve da far cadere questi ultimi 2 e mezzo di bonus che devo dare al Napoli nell'altro semestre in modo che i due e mezzo finali a saldo di Zelischi che devo pagare li vado ad ammortizzare nel bilancio che va dal gennaio nella semestrale gennaio giugno 24 sono queste le dinamiche con le quali si può ammortizzare una spesa ok? questo è il discorso io dico che a 20 più 5 di bonus Zelischi viene alla Lazio adesso il mio appello è disperato Lotito non hai non ti non ti trovi nelle condizioni di poter giocare con il tempo perché la squadra è già una settimana che sta in ritiro non hai queste potenzialità non hai quest'arma dalla tua parte quindi caro Lotito sbrigati a rilanciare a 20 più 5 di bonus De Laurentiis sicuro ti dice di sì firma visite mediche e tra tre giorni Zelischi ad Aronso per favore non tirare troppo per le lunghe la pazienza c'è un limite per tutti Lotito la pazienza c'è un limite per tutti ciao grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.